Ciao a tutti, oggi vi parlerò di ginnastica a cavallo. Adesso sto eseguendo degli esercizi di ginnastica al passo. Questo che state vedendo è un esercizio che serve per allungare la colonna vertebrale. Alternativamente sto toccando con la mano destra il piede sinistro e con la mano sinistra il piede destro. Questo esercizio serve per rilassare e ammorbidire un po' le anche. Pertanto alzo alternativamente il ginocchio sinistro e poi il ginocchio destro. In questo esercizio alzo entrambe le ginocchia contemporaneamente. Questo esercizio serve anche qui sia per allungare la schiena che per ammorbidire le anche e alzo la mano destra con il ginocchio sinistro e viceversa. Questo esercizio invece serve per capire quando il cavallo porta in avanti il posteriore interno. Idem in questo esercizio solamente che sono in una posizione corretta. Grazie. 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 Grazie.